Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Battipaia hanno arrestato i pregiudicati Nicola D'Auria e Sabato Palladino, ritenuto contiguo al clan Defeo, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno. I due sono accusati della rapina commessa il 7 luglio ai danni di un noto commerciante ittico di Battipaia, che intorno alle 3.30, mentre stava entrando nel proprio Fiat Ducato per recarsi al mercato di Salerno, dopo essere stato colpito alla testa con il calcio della pistola, fu rapinato del borsello contenente circa 2.000 euro necessari all'acquisto di prodotti da rivendere presso la sua pescheria. Espletate le formalità di rito, Nicola D'Auria e Sabato Palladino sono stati trasferiti al carcere di Forni, con le accuse di rapina aggravata in concorso e porto abusivo d'arma da fuoco.